Per lo spazio Ars Music con il nuovo disco abbiamo Sharon di Cunzolo. Ciao Sharon! Ciao, buongiorno a tutti, anzi buonasera. Come stai? Tutto bene, grazie, a voi? Bene, 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 grazie, bene. Mi fa piacere. Senti, allora, questo disco, questa esperienza, cosa hai provato incidendo un brano in una compilation con tanti altri ragazzi? Allora, sicuramente sono emozioni diverse, cioè che l'ansia comunque c'è di sbagliare qualche parola, di sbagliare qualche nota, però sono stati tutti molto accoglienti e molto bravi, quindi mi sono assoluta a mio agio. Subito? Diciamo subito, infatti, sì sì. Sono rimasta molto contenta. Senti una cosa. Eh, sì. Dimmi. Dimmi, no, no, dimmi, dimmi, sei rimasta molto contenta e naturalmente cosa ti ha formato questa esperienza, cioè cosa ti è rimasta di più? Allora, mi è rimasto che bisogna essere sempre coerenti nelle cose e, allora, per prima cosa non bisogna mai giudicare l'altro o cose del genere, bisogna sempre essere, diciamo che ci bisogna appropriare a quel luogo. Non so se mi sono spiegata. Sì, 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 sì. Sì, perché, sì, volevo dire che nel senso, comunque l'ansia ci deve essere, è ovvio, però comunque è una cosa bella perché, diciamo, fai altre conoscenze, impari nuove cose, impari tantissime, perché poi ogni concorso ha una sua, giustamente, ha una sua interpretazione, quindi sono delle emozioni che si provano sempre. Ma tu ne hai fatti tanti di concorsi? Sì, 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 ne ho fatti altri tanti. Dove, quanti anni hai tu, scusami Sharon? Tra poco ne faccio quindici. Quindici, sei una delle più piccoline della compilation, lo sai? Sì, sì. Senti, ma del disco chi è che conosci, degli altri cantanti? No, del disco nessuno. Ah. Perché mi sa che sono, io sono di Eboli, cioè vengo da Eboli, quindi mi sa che sono quella che è più vicino. Ho capito, ho capito. Ma come sei arrivata a questo concorso, diciamo, che poi ti ha portato all'incisione del disco con l'Ars Music? Come sono arrivata? A livello di che cosa? Come ci sei arrivata? Cioè tu sei di Eboli, no? Non sei della zona di Napoli praticamente. No. Per cui, come hai saputo di questo? Come ci sei arrivata? Allora, io, grazie a Yana Marina, non so se mi sa che la conoscete. Mh? Sì. Mi sa che la conoscete, Yana Marina. Sì. Lei mi disse di questo concorso e mi disse, provaci e che tu hai un talento, quindi proviamoci. All'inizio, diciamo, ho detto, no, non lo so perché ti sente l'ansia e queste cose qui. Però poi ho detto, vabbè, ci provo e vediamo come va. Perché alla fine servono queste cose nella vita della musica, nel mondo della musica, per arricchire il mio bagaglio. Quindi l'ho fatto e ci sono riuscita e ne sono rimasta felicissima. Bene, bene. Noi siamo contenti per te. Senti una cosa, tu ne vuoi fare un lavoro un domani, questa tua passione? Certo. È un mio obiettivo grandissimo. È un tuo obiettivo. Per cui continuerai a studiare, continuerai ad andare a scuola di musica. Sì, io faccio proprio il liceo musicale. Ok. Senti un po', cosa dicono i tuoi compagni di questa tua avventura? Dicono che, allora, che è stato bello, cioè è stato bellissimo perché comunque sentirmi cantare e far incidere la mia voce in un disco Comunque è anche un'emozione per i miei compagni, giustamente. Sono rimasti contenti tutti, dai. Dai, sono rimasti contenti. Comunque tiffano per te, insomma. Il disco lo compreranno probabilmente. Ecco, questo volevo dirti. Probabilmente sì, 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 penso di sì. È ovvio. Senti, Sharon, tu sei critica nei tuoi confronti quando canti e se ti accorgi che sbagli? Sì, molto. Allora, diciamo che io mi arrabbio molto perché, allora, innanzitutto io quando me ne accorgo sbaglio, cioè, quando me ne accorgo che sbaglio, subito vado in tilt, nel senso che subito, diciamo, sono io la prima a far capire, anche se non si vede, perché io quando sbaglio mi viene l'ansia, mi viene da piangere in buon momento, non so che fare, però crescendo e facendo altri concorsi ho capito che non serve alla fine, basta che non mi fermo mai, perché se mi fermo là è proprio una cosa brutta, perché mi capitò che mi fermo mai, quindi è una cosa molto brutta. È questo che ti avrei chiesto. Sì, è questo che ti avrei chiesto. Dal vivo non devi mai fermarti, devi sempre andare avanti, anche se ti dovesse capitare. La mia figura più grande è sempre quella di sbagliare le parole, non so perché, però ho sempre quel puntino in mente che dico, ora sbaglio le parole. Non hai memoria? No, sì, però l'ansia, diciamo, è l'ansia che a me, cioè, mi manca proprio. Senti, un'altra cosa, se io adesso ti chiedessi Sanremo o un talent, cosa sceglieresti? Allora, Sanremo o un talent? Andrei subito, sceglierei Sanremo, sinceramente. Perché? Perché per vedere, cioè, per provare innanzitutto altre emozioni e per vedere, diciamo, qualche cosa in più che un talent forse non ha. Ma non pensi che sarebbe uno step successivo quello di Sanremo? Cioè, non ti reputi ancora troppo acerba, diciamo, per questo tipo di palco? Sì, e infatti, ecco perché ci vorrei provare. Perché, cioè, quando si ancora non maturi, facendo cose un po' più grandi, diciamo, si vede già in che punto si sta, quindi si capisce un po' prima la situazione e ci viene proprio un'abitudine a stare in quel luogo, quindi... È un misurarti con te stessa, ho capito. Sì, diciamo, il mio limite. Bene, bene. Senti un po', invece la canzone è una tua scelta o una scelta della tua professoressa, in questo caso, o della produzione? No, una mia scelta. Ti piace... Una mia scelta. Ti piace Emma? No, allora, in questo caso mi piace la canzone. Emma mi piace, sì, però non è molto il mio genere. Ho capito. Il mio genere è più Funnina, Mia Martini, questi generi qui. Insomma, dai. Sì. Eh, ti stai misurando con personaggi grossi, corposi, insomma. Grandissimi, sì, sì. E invece, rimanendo a oggi, se tu dovessi fare un duetto, con chi lo faresti? Con dei cantanti grandi. Sì, con un cantante, una cantante. Cioè, con chi ti piacerebbe duettare? Allora, allora, guarda, non ti so proprio dire, ne vorrei fare tantissimi, mi piacerebbe duettare con Laura Rosini. Ah, ok, bene, bene. Di solito si sceglie un partner maschile, sai, quando si va a duettare. Però, diciamo che, no, sui maschi non ne ascolto molto musica maschile. Ok. Ascolto sempre quelle, le versioni femminili. Ho capito, ho capito. Bene, Sharon. Perché si addicono alla mia voce, quindi mi trovo di più. Allora, noi di Radio GM 2.0, sai che stiamo promuovendo questo disco dell'Ars Music, per cui andrai in onda anche prossimamente tutto quello che c'è da sapere. Intanto io ti saluto con il tuo brano, Arriverà l'amore, ce lo andiamo ad ascoltare. Ciao Sharon, grazie. Grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.